È iniziato come al solito tutto per caso. È una storia inimitabile e irriperibile. Un gruppo unito di ragazzi venuti dalla strada per cercare di raggiungere un sogno. E c'è il canestro, gentile! Mi sono trovato laddove non pensavo di trovarmi. Noi attaccavamo le autorità. Caserta rappresentava l'eccezione. È dell'offe! Trovesciamo il potere. Il fatto di partire da underdog. La squadra più forte avevamo noi, quindi non c'era la storia. Trasher è campione d'Italia! Ecco qui, siamo i bonsai, siamo quelli che non riescono mai a vincere. Gioventù, entusiasmo, gambe, pulmone, cattiveria. Che squadra, mamma mia! Insomma, siamo stati una società un po' estemporanea, un po' scullizza. Crederci sempre. Nessuno può distruggere i tuoi sogni. Assara che è un po' estemporanea. Sì, sì, sì. Assolutamente, siamo stati in un po' estemporanea. Ciao! C'è un po' estemporanea. C'è un po' estemporanea. Grazie.